Per il sole radioso, non posso crederci. Credevo che il Masticarocce ti avrebbe sbranato. Un bel miracolo. Adesso aspettiamo. Vanesha sarà qui presto, insieme alla barca che porterà i reali dall'altra parte. Ah, piccola cacciatrice. Felice che tu abbia accettato di fare da guardia del corpo. Dove sono i tuoi wadib? Hai l'aria di uno che è stato masticato e risputato. È esattamente quello che è successo. La via è libera. Andiamo? Mi piace come tagli corto. In tutti i sensi. Credo che presto avremo compagnia. Niente paura, vostra radiosità. Abbiamo una protezione eccellente. Oh cielo, ecco i Cargio delle ombre. Sembrano molto arrabbiati con me. Ci penso io. Molto nobile da parte tua, ma quando inizio qualcosa intendo finirla. Apprezzo il tuo aiuto. Wadib, porta Itamen e sua madre sulla riva. Sta' attento. Finalmente ci siamo. Devo dirlo, dopo due anni passati all'ombra di questi fanatici, sono pronta a versare un po' di sangue. Grazie a tutti.